Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Questa casa attraente offre gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia. Camere da letto di buona misura con ampio spazio. L'intrattenimento all'aperto sarà facile. Contattarci per ulteriori informazioni.